Sono aperto anche a questa proposta, diamo una base storica e scientifica e dopodiché secondo me si può anche fare, anche perché non è mai troppo tardi per esaltare il ruolo delle donne. Il sindaco Mario Conte accoglie con disponibilità e soprattutto curiosità la proposta avanzata dalla consigliera provinciale di parità Stefania Barbieri di tornare a denominare l'attuale piazza indipendenza, dedicata ai patrioti risorgimentali, piazza delle donne, come era in passato. Per Barbieri rappresenterebbe un segnale di attenzione e sensibilità di genere, anche perché si tratta di uno dei luoghi più centrali della città, proprio accanto a Piazza dei Signori. Mi interessa, sto approfondendo la storia della nostra città, non soltanto di quella piazza ma di tutte le piazze perché sono affascinanti alcuni nomi che avevano i luoghi della città di Treviso e se questa trova conferma anche nelle mappe della città di Treviso, perché no? Piazze del centro frequentate nel fine settimana soprattutto dai giovani e giovanissimi. È positivo il bilancio che fa il sindaco del confronto che ha voluto avere direttamente con loro sabato dopo i seri fatti di cronaca che hanno coinvolto nell'ultimo periodo dei ragazzi, anche minorenni, liti, vandalismi. Sono stato molto soddisfatto di questo incontro, li ringrazio e continuerò a farli perché più dialoghiamo con loro e più riusciamo a ottenere risposte. Credo che sia la prima volta che la politica parla con i giovani e non parla di giovani.